È morto Luca Giurato. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. Giurato è deceduto oggi, 11 settembre 2024, per un infarto fulminante. Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate. Conferma in lacrime a Laden Kronos la moglie Daniela Vergara. Giurato, che ha iniziato la carriera di giornalista negli anni Sessanta, è approdato in TV all'inizio degli anni Novanta con una serie di programmi. Da domenica in a uno mattina, dalla vita indiretta a quelli che è il calcio, fino alle apparizioni come opinionista in alcuni reality. Mara Venier, compagna d'avventura di Giurato a domenica in, saluta l'amico con un messaggio su Instagram. «Ciao Luca, ti ho voluto tanto tanto bene. Per me è un giorno molto triste», scrive. «Quanta vita insieme. Tanti anni di albe a uno mattina, nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi, sempre con la battuta pronta». Il messaggio di Eleonora Daniele, partner di Giurato a Uno Mattina. «Mi hai insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista, senza mai essere banale. Tu sei e sarai sempre il mio Luca», scrive la conduttrice. «Ciao Luca! Quante risate a Uno Mattina!» Il saluto di Antonella Clerici. «La nota della RAI. La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l'azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza», scrivono i vertici della RAI in una nota. «Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio, basti ricordare Uno Mattina, ma non solo, l'essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno di famiglia, con uno stile inconfondibile, sorridente e accogliente, accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico». E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e commenta. Grazie!